ciao vorrei dare la mia esperienza per quanto riguarda le costellazioni io ero presente in quel video e appunto rivedendo il video non mi sono ritrovata perché non ho sentito le emozioni che invece ho provato personalmente allora si tratta per esempio sono partito scusate da una semplicissima domanda dove ero affiancata dalla costellatrice quindi una persona professionale in questa cosa bravissima questo aggiungo io e si mette in campo diciamo così in campo quello che è il dubbio o comunque su sulla problematica che si vuole lavorare e quindi la costellatrice decide chi mettere in campo tra i presenti ci sono persone come quel giorno lì persone che io comunque non conoscevo che magari rappresentavano me e il mio dubbio che poteva essere il lavoro poteva essere un'altra persona piuttosto che al più persone quello che era il mio problema quindi vengono scelte da me queste persone che rappresentano il mio problema e cominciano a concentrandosi a sentire delle informazioni perché il campo da il campo morfologico da delle informazioni ma queste informazioni non sono voci o voodoo come tanti pensano candele cose assolutamente niente di tutto questo sono informazioni che arrivano tramite le emozioni rabbia delusione pianto repulsione repulsione e lo e lo senti ma lo senti fortissimo quindi magari un rappresentante si può sentire attratto più verso il lavoro piuttosto che un'altra persona dipende dipende poi dalla problematica che si vuole rappresentare e quindi dicendo quello che senti l'emozione che senti alla costellatrice la costellatrice accompagna questa rappresentazione al meglio in modo che venga fuori un perché e tu che sei fuori e vedi la tua rappresentazione caspita capisci tante cose tanti atteggiamenti che magari ti erano non capivi non riuscivi dicevi ma perché questa cosa è così e invece c'è un perché non solo c'è un perché ma ti aiuta ad affrontarla e questo è una cosa che vi assicuro non fanno anni di psicologia credetemi questo lo dico proprio per esperienza personale quindi io direi almeno una volta nella vita di provare a farle le costellazioni e valutare perché dal video purtroppo non dà il vero senso della costellazione è come vedere un film senza musica senza voci quindi tu che lo vedi che vedi un film senza quella musica che magari tra tutta mette un pochino di angoscia di orrore cambia completamente la dinamica la costellazione è così non è un film teatrale non è una cosa sono emozioni e le emozioni non le trasmetti con un video purtroppo quindi è un'esperienza assolutamente che voglio proseguire nel tempo e che consiglio a tutti assolutamente a tutti un bacio